bravo a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su brawl stars ragazzi innanzitutto già mi scuso perché non ho potuto portare i video intanto già iniziamo non potrò portare live o video perché stavo registrando la speciale 300 iscritti quindi non potete portare assolutamente dei video o del live e ragazzi domani ci sarà la live del della nuova skin trina che è una skin molto molto bella che a me piace tantissimo vi ho fatto il sondaggio su instagram se vi andava bene che la shoppiamo domani avete scritto sul sondaggio di sì quindi ragazzi noi ce la shoppiamo molto volentieri intanto un attimo già scappiamo quindi ragazzi domani facciamo diciamo questa live dove ce la shoppiamo ok c'è due bombardini squadra ragazze va easy rega easy easy di vittoria easy veramente l'abbiamo vinto rega figato di ragazzi noi chissene il nostro il primo pam rega abbiamo vinto perché ci apriamo anche due bauli quindi gg 3 a gg ci apriamo due bauli ci apriamo due bauli vero sì arriviamo anche a 600 trovai quindi possiamo anche dare 25 volte esperienza chi vogliamo io ridare il primo rega è il primo è un attimo che spostiamo lo mettiamo qua in basso e intanto andiamo a potenziare il primo che sono poche poche monete e andiamo un attimo questo mi conviene metterlo se è possibile apriamo il primo bauli bam ragazzi uh ragazzi nuovo brawler nuovo brawler piper ragazzi piper in a pack piper in a pack ragazzi brawler epico per noi ragazzi nuovo brawler se lo sapevo li dava a piper i punti esperienza ma ragazzi andiamo con questa cassa possiamo trovare tutto rega non me ne frega niente subito 9 punti esperienza per piper abbiamo poche e beryl va benissimo rega abbiamo trovato piper quindi un nuovo brawler quindi ragazzi gg per questo episodio veramente un bel bel episodio ragazzi un nuovo brawler epico che ci va che si va ad aggiungere la nostra collezione intanto vorrei non failare la registrazione ragazzi ovviamente sopravvivenza è solo andremo subito a provare questa piper fantastico rega che fortuna che abbiamo avuto nella cassa omaggio era ora e anche piper ha la run moriremo subito va bene anche piper ha la run però la run di piper si fa con bisogno di dare i nemici insomma ragazzi abbiamo trovato piper perfetto ci nerdiamo ci nerdiamo rega ci nerdiamo su questo gioco voglio arrivare a un botto di trofeo voglio vedere un attimo a che come spara rega non sembra quanto toglie facciamo sulla cassa da 6.000 vabbè non rega ci hanno visto non rega ci hanno visto intanto grazie guardate ragazzi mi prendo quello per la nostra piper ragazzi direi scappiamo tanto l'heat pare che non entrino e finchere che l'heat non entrano da loro a me è benna ragazzi siamo rimasti ancora in otto questi bisoli brawl stars sta andando molto bene penso che il titolo sarà non 600 trofei ma troviamo un brawler epico di che abbiamo siamo bassi di batteria non vi faccio niente ma ce la dobbiamo fare rega ce la dobbiamo fare ragazzi noi viveremo almeno secondi perché ragazzi ci voglio nerdare su questo gioco voglio avere tutti i brawler senza sciopare rega voglio avere un account no jamming no come su fortnite perché ragazzi il bello di questo gioco è divertirsi non sciopare tre ragazzi quindi dobbiamo fare in modo che si scontano appunto loro due ok vincere a bull sicuro ma guarda il bullo il bullo vuole venire da me rega guardate che ha vinto io non ci credo ragazzi noi abbiamo il brawler epico ragazzi mi sa che siamo morti ragazzi noi togliamo 800 però brava piper rega brava piper un brava piper rega ci nerderò tantissimo ragazzi cambiamo anche subito subito lo standard ci prendiamo il piper ci mettiamo il piper ci mettiamo il piper e quindi ragazzi per questo episodio di brawl stars è tutto noi ci vediamo in un prossimo video una prossima live se siete appunto domani quando shopperemo la maschintrina non so quando poi vedremo io vi invito a lasciare un bel pollicione in su condividere la live seguitemi su sistema capigine neo official page iscrivetevi al canale che sono sempre vicino ai 300 iscritti e li faremo un mega speciale e niente io vi saluto ciao 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 Grazie.